Con il termine per posti si identificano i lavoratori che svolgono l'attività di capi squadra, capi ufficio o capi reparto, cioè coloro che assumono un ruolo di preminenza rispetto agli altri lavoratori, imbattendo ordini su come svolgere il lavoro. In materia di sicurezza e prevenzione, i preposti devono ricevere la stessa formazione prevista per i lavoratori, più 8 ore di formazione aggiuntiva. I dirigenti, invece, sono i soggetti che, insieme all'imprenditore, organizzano l'attività lavorativa in azienda. Come lavoratori e preposti devono ricevere una formazione sulla sicurezza. Nello specifico si tratta di una formazione ad hoc di 16 ore relativa alla gestione della sicurezza in azienda. Questa formazione riguarda gli aspetti organizzativi, giuridici e comunicativi legati al loro ruolo. Le aziende devono formare preposti e dirigenti entro l'11 luglio 2013. L'obbligo non riguarda preposti e dirigenti già formati prima dell'11 gennaio 2012, purché la formazione pregressa sia documentata e abbia avuto contenuti adeguati. Inoltre, sia preposti sia dirigenti devono ricevere un aggiornamento ogni 5 anni. Grazie a tutti! Grazie a tutti.